Hai l'impressione di avere bisogno di troppi occhiali per vedere da vicino, da lontano e tutte le gradazioni intermedie? Ti capita spesso di non sapere dove le hai messi? E se si rompono la tua gradazione cambia? Dovrai andare dal medico, aspettare un nuovo paio di occhiali e spendere centinaia di euro! Ti presentiamo Vismac Self Adjusting Glasses, i nuovi occhiali regolabili che ti permetteranno di avere una vista nitida a 10 decibi in pochi secondi, per vedere da vicino, da lontano, da vicinissimo e a tutte le distanze intermedie. Dovrai solo osservare la tavola optometrica, coprire il tuo occhio destro e ruotare la rotella fino a quando la lente coincide con la tua gradazione. Poi ripeti l'operazione con l'occhio sinistro e in pochi secondi vedrai perfettamente con entrambi gli occhi. Sviluppati a Oxford in Inghilterra dai migliori ottici, il segreto di questi occhiali è l'avanzata tecnologia delle lenti. Gira la rotella e regola le lenti in modo che coincidano con la tua gradazione. Sono perfetti per leggere i caratteri piccoli dei foglietti dei medicinali e delle ricette e per i tuoi hobby preferiti. Non portarti più dietro diversi occhiali. I Vismax possono adattarsi per vedere da vicino e da lontano. È come avere due paie di occhiali in uno. Usali agli eventi sportivi, gira la rotella e leggi i testi da vicino. Poi regolali per vedere qualsiasi distanza intermedia. La montatura flessibile e leggera è comodissima, perfetta per lo shopping, le pulizie in casa o per vedere il tuo film preferito. Cosa succede se i tuoi occhiali si rompono in vacanza? Le nostre montature di alta qualità sono resistenti agli urti. Incredibile! Quando hai bisogno di vederci chiaro, hai bisogno di Vismax, gli occhiali di ricambio più economici che sostituiscono i tuoi occhiali dove vuoi e quando vuoi. Usali per fare bricolage o per firmare biglietti di auguri. I Vismax Self Adjusting Glasses saranno sempre pronti all'uso al momento del bisogno. Gli occhiali graduati possono costare centinaia di euro, ma ora puoi acquistare i Vismax Self Adjusting Glasses. Riceverai anche la custodia, il panne in microfibra e la tavola optometrica gratis. I Vismax Self Adjusting Glasses saranno sempre pronti all'uso al momento del bisogno.